ragazze buongiorno parto dalla mia cucina perché ieri per chi mi segue su instagram ho caricato due reel un reel con una musica impressionante dove si vedeva la mia cucina sporchissima cioè la mia cucina non sporchissima i piatti da lavare bicchieri tegami padelle insomma un sacco di cosa perché la sera prima aveva cenato qui mia figlia avevo fatto tante cosine da mangiare ma vedo che questo reel è piaciuto tanto perché ho ricevuto tanti like tanti commenti tante risate in effetti faceva ridere perché c'era questa musica così tragica spaventosa e poi naturalmente ne ho caricato un altro reel con la cucina bella pulita come ora e quindi visto che per chi mi segue su instagram vi è piaciuto vi lascio di nuovo le immagini allora stamattina ho spostato tutto quello che c'è diciamo sulle mie isole che sono due unite lo sapete quelle di che ha con quattro sgabelli che ora praticamente è diventata invece una penisola perché parte dal muro quindi non è più un'isola ma una penisola perché attaccata al muro come vedete ho diciamo spostato intanto ho tolto qualche cosa ho spostato un pochino le cosine più in là e qui l'ho lasciato completamente libero perché dovete sapere che lo chef è uno uno sfotto vivente nel senso che è sempre che mi dice a tutte queste cose che tu metti non c'è mai lo spazio per fare per dire per cucinare per per poggiare le cose e quindi vediamo ho tolto qualche cosina naturalmente queste cose ora le devo riporre sono tutte cose lavate che devo riporre e queste cose non ci saranno più così vediamo ora gli dico lo minaccio che non deve più lamentarsi perché guardate quanto spazio c'è qui io praticamente la prima isola che ho comprato quando ho comprato questa cucina e sono venuta ad abitare in questa casa e l'ho comprato proprio per avere un ulteriore piano d'appoggio perché come vedete nella cucina i piani d'appoggio sono praticamente inesistenti solamente questo qua in centro dove ci sono questi piatti rosa che sarà un 50 cm quindi ho detto dove dove possiamo avere un piano d'appoggio per cucinare per per fare le nostre cose quindi ho comprato quest'isola la prima isola ikea poi ho visto qualche video in cui queste queste isole erano due ed erano attaccate una all'altra e allora mi è come si dice mi si è accesa la lampadina e anche perché per fortuna lo spazio c'era perché lo spazio come vedete in lunghezza e quindi ho detto ma sai che c'è che ne prendo un'altra compro altri due sgabelli e come vedete mi è venuta una bella penisola enorme dove appunto si può pranzare fare una prima colazione già quattro persone o come vi dicevo prima in qualche altro video allestire un buffet mettere tutti i piatti naturalmente noi donne noi casalinghe che abbiamo tutte le nostre belle cosine da esporre che facciamo non facciamo altro che prendere le cose poggiarle mettere in esposizione poi giustamente lui arriva e dice tutte queste cose non mi posso muovere lo stesso quindi ora ho fatto così ho tolto diciamo qualche cosina queste tre cose che ci sono le ho un po come dire buttate spostate tutte quasi nella prima isola e qua è tutto libero considerate che poi volendo appunto cucinare anche anche questi tre oggetti che sono questo specie di centro tavola e questa torta che è una candela e questa planetaria si possono spingere tutte di qua e sia un piano da lavoro enorme chef stati zitto allora poi la situazione come ragazze allora la situazione è altalenante perché stamattina mi sono svegliata con un dolorino nella bocca dello stomaco e difatti proprio nel nel sonno e nel sogno così ero forse un po indormiveglia pensavo di prendermi qualche cosa sapete quando viene un po la gastrite o quando non si può digerire perché avevo questo dolorino qua poi svegliandomi svegliandomi un pochino di più ho cominciato ad avere un po paura perché perché nella mia famiglia io mi chiamo leto nella nella in tutta la parentela dei leto compreso mio padre mio fratello i miei zii fratelli di mio paio insomma le sorelle di mio padre hanno tutti tutti avuto l'infarto e quindi questo senso di oppressione nel petto che mi è venuto mi ha fatto un po preoccupare mi ha fatto un po spaventare però vi devo dire che appena mi sono alzata dal letto mi è diciamo mi ha calmato molto si può dire che mi è passato ho fatto colazione un po un po così non ho fatto una bella colazione di fatti ho preso meno latte perché appunto avevo questo malessere avevo un po questa paura di fatti mi sono subito fatta la doccia io di solito la mattina mi faccio tutte le pulizie e poi quando finisco mi faccio la doccia invece stamattina me la sono fatta subito prima di cominciare la routine perché ho detto se se mi sento male se devo andare se mio marito mi deve portare in qualche posto almeno già sono bella pulita fresca e profumata e quindi quindi capite che la mattinata diciamo proprio bene 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 non è cominciata però vi devo dire che poi a poco a poco mi sono fatta il letto sempre molto lentamente perché dietro mi fa male perché ho questi ematomi quindi mi siedo e mi fa male la testa un pochino il punto è dolorante insomma quindi sempre molto lentamente prima mi sono fatta il letto poi sono passata in cucina e come vedete sono riuscita a farla tutta bella sistemata ho fatto una lavatrice tutta di bianco tovaglie di tavole cose varie e ora invece stavo preparando appena finisce questa un'altra lavatrice di cose scure e in queste cose scure voglio unire anche questi cuscini che sono i cuscini del nuovo salottino esterno perché è piovuto quindi si sono bagnati e asciugati però a questo punto io che faccio? li lavo e poi li conservo proprio nel tavolino che c'è in dotazione in questo salottino è un tavolino contenitore diciamo che si apre e posso conservarci delle cose quindi adesso li lavo e poi li conservo là in modo che non si bagnano più il salottino anche se si bagna non c'è nessun problema perché è un materiale resistente che può appunto prendere sole prendere pioggia non ci fa niente e quindi e quindi questo è tutto diciamo la prima parte della mattina un attimo vediamo che ora sono già sono le 12 e un quarto ora devo andare a fare il bagno nel frattempo ragazze nel frattempo e stamattina appunto stavo riflettendo che io con il telefonino faccio tante cose faccio i video li carico li posto io poi personalmente mi piace molto guardare i video delle altre youtuber insomma ci passo molto adoro instagram guardo sempre molte gallerie di instagram e stamattina ho detto ma porca miseria io devo fare tutte queste cose con questo telefonino piccolo con lo schermo che insomma un classico smartphone lo schermo sarà 10 cm per 5 insomma molto piccolo addirittura la sera quando sono a letto capita pure che mi finisco un film ad esempio che vedo su netflix siccome ho netflix pure sul telefonino capita appunto che mi vedo il finale di un film quindi capite che ho questo schermo così piccolo diciamo non è bello diciamo che un po' sono anche abituata però stamattina ho preso il telefono ho chiamato mia figlia mia figlia lavora da un euro ve l'ho detto tante volte ci lavora anche mio figlio marco da un euro anche se sono in negozi e in reparti diversi e quindi vi stavo dicendo niente che ho preso il telefono ho detto a mia figlia Alessia prendimi un tablet perché è un buon tablet perché col telefonino io ci faccio tante cose e vedo tutte le immagini piccole e quindi lei immediatamente se ne è andata al reparto appunto dei tablet e dei computer e mi ha preso questo bellissimo tablet interrompo un attimo perché proprio Alessia mi sta chiamando allora vi stavo dicendo appunto che Alessia mi stava chiamando per dirmi che me l'ha preso naturalmente per utilizzarlo poi se ne parla stasera perché poi in realtà il tablet si deve configurare si devono scaricare tutte le app tutti i social quindi questa è una cosa che mi fa mia figlia mi ha detto mamma stasera c'è uno a casa tua anzi no te lo prendo ora a pranzo me lo porto a casa così stasera te lo porto già bello che è funzionante e quindi e quindi questo ora a questo punto ah mi ha chiamato poco fa lo chef ragazze sapete e mi ha detto che nel porticciolo di Isola delle Femmine come è capitato non mi ricordo forse nella primavera del 2022 stavano girando viola come il mare sapete quelle puntate con Francesca Chillemi e Jan Kamann Jan Kamann insomma come si chiama e mi ha detto che ora stavano girando di nuovo delle scene quindi per ora c'è questo set naturalmente lo chef curiosava ragazze sto spruzzando questo cancello d'ori di Rio e vi volevo dire che se lo cercate lo trovate di nuovo in commercio perché c'era stato un periodo in cui era fuori produzione ora invece è tornato in produzione nei negozi di detersivi si trova vi dico anche il costo intorno a 1 euro e 50 allora ne spruzzo un pochino perché dovete sapere che a casa mia per fortuna si cucina sempre si cucina sempre e per ora io ho fatto tante melanzane fritte alla parmigiana peperonate che buono questo odore ragazzi allora questo è questo è cuore di lavanda giardino provenzale che è buono buonissimo allora io lo spruzzo pure sui fiori finti così passando mi arriva questo profumo di fiori in questa palla pure che è naturalmente sintetica lo mettiamo pure qui sempre sui fiori finti e quindi vedete io tengo sempre aperto anche ora che l'aria comincia a essere freddina io tengo sempre aperto perché assolutamente devo fare cambiare l'aria ok pure qua allora lo spruzziamo pure qui perdonatemi se muovo il telefono in maniera repentina però un pochino qui in tutta la casa praticamente questi fiori finti dovete sapere che Maya da stamattina è nascosta dietro dietro il letto perché sono venuti alcuni operai a mettere la nuova tastiera nell'ascensore perché quella era asciupata quindi quando lei sente il rumore di rumori strani magari la voce di qualcuno che non le confinfera si va a nascondere nel suo bunker che buono ragazze allora ragazze nel frattempo vi volevo dire che sono un paio di giorni che utilizzo questo detersivo per i pavimenti alba che io ho preso anzitutto per il colore perché è turchese secondo perché ha una buona profumazione terzo perché è costato solamente 99 centesimi allora vi devo dire che lo sto usando che non è male il profumo si sente il grado di detersione credo che sia pure buono non ottimo ma buono un minuto che qua ci sono pure fiori vinti bene mi è piaciuto così tanto ragazze avete visto che l'ho fatto cadere e mezzo flacone è andato va bene ragazze allora fiori finti qua fiori finti qua che peccato mamma mia poi un'altra cosa vi volevo dire mi sono preparata questo attrezzo che in realtà è un portasapone però in questo portasapone a me viene benissimo pulire i pennelli del trucco perché li strofino qui e si puliscono benissimo e oggi li voglio pulire e quanto prima però vorrei fare un video in cui si vede la faccia vi faccio appunto un video dell'utilizzo preciso di tutti i pennelli perché voi capite bene che utilizzando gli strumenti giusti il trucco migliora va bene quindi intanto oggi mi lavo tutti i pennelli e vediamo appena tolgo i punti insomma prossima settimana tra lunedì o martedì vediamo se vi faccio no vediamo vi voglio fare questo video appunto che parla dell'utilizzo preciso di ogni pennello